Sono Borghese Enrico di Comtec Italia, siamo qui allo stand TV One per presentarvi le novità di questa fiera ISEE. La novità principale è rappresentata dal C2 2855, uno scaler universale che consente di gestire qualsiasi formato video con 6 ingressi, HDMI, DVIU, RGBHV, Composito, Component e HDSDI già 3G compliant. La prima novità è rappresentata dal nuovo pannello frontale che consente di semplificare decisamente l'utilizzo per la macchina rendendola ottimale sia per l'ambito rental, service oltre che per installazioni fisse e integrazioni di sistema. La macchina consente di convertire qualsiasi formato in ingresso in un qualsiasi risoluzione formato di uscita e consente inoltre le funzioni di PIP con un'immagine sovrapposta all'altra, l'immagine appunto posizionabile e dimensionabile a proprio piacimento sulla superficie di proiezione in più si ha la possibilità di memorizzare fino a 5 loghi interni alla macchina e 5 frame. La macchina può lavorare a preset e quindi in maniera molto rapida e veloce si riescono a gestire tutte le modalità di proiezione e inoltre come tutta la gamma di prodotti TV One consente di ottimizzare la gestione del digitale sia in termini di edit che di HDCP. È impossibile infatti utilizzare delle tabelle interne di edit della macchina oppure salvare l'edit del display. A livelli di HDCP si ha la possibilità di abilitare e disabilitare l'HDCP indipendentemente nell'ingresso HDMI e DVIU e eventualmente anche nell'uscita. Tutte le transizioni sono seamless in fade, cut e tendina e rende questa macchina estremamente vincente soprattutto nell'ambito del rental in tutte quelle applicazioni in cui è richiesta una conversione di segnale di altissima qualità. Un solo frame delay di ritardo sulla conversione del segnale. Questa è un'altra novità presentata all'ISE dalla TV One, la Choreo Master Mini. Questo è un processore video modulare, componibile, a moduli, in grado di gestire qualsiasi segnale in ingresso dal composito al DVI, all'HDMI e all'HDSDI 3G e qualsiasi formato in uscita. La macchina consente di integrare in un prodotto unico le funzioni di video, rotazione dell'immagine, softage e multiviewer. La macchina consente appunto di crearsi delle scenografie personalizzate a livelli d'uscita con la possibilità di gestire fino a 14 finestre video posizionabili nella superficie di proiezione. Qui all'ISE è stata introdotta anche una nuova interfaccia grafica, Choreographer, estremamente performante drag and drop, che consente di configurare la macchina in maniera molto semplice e intuitiva e soprattutto dà la possibilità di lavorare offline. Quindi uno si può creare la propria presentazione offline, poi caricare la propria scenografia sulla macchina e dare vita alla proiezione.